Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono MadGamer007 e benvenuti in questa nuova serie Ragazzi giocheremo ad Assassin's Creed, non è la prima volta che faccio il video con Assassin's Creed Giocheremo ad Assassin's Creed Revelation ragazzi Farò soltanto 4 episodi di questo, poi farò un'altra serie di un altro Assassin's Creed Ok ragazzi sta iniziando il gioco, solo che abbassare il volume perché si sente molto forte Ok ragazzi, andiamo sull'audio Musica effetti Ok ragazzi andremo Ok ragazzi Già si vede Che è molto bello Cassia Ed è un mare di giochi, non ci gioco più Quando avevo ero un mago Ok Ora posso scendere Ok Continuiamo Ok Ok Con attacco per attaccare, tocchi il pad virtuale per parare Capito Che è che non ho fatto bene? Morto Morte bellissima Prima Prima liberiamo Altair Ah è il nuovo assassino, non è Altair proprio Aspetta un secondo, guarda la Rita Non mi rubare, non mi rubare l'unico maledetto Ok non me l'ha rubato Mi pareva Trovate quelli l'urdi ed assassini Ma chi Ma 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 Te lascio Mungu specchio Parola pure Piazza Santoleva Ok presto Quel maiale Quel maiale La smetterà di Blatterare L'uomo 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 Devo fare attenzione Se col ciccione mi vede Mi farà Piombare addosso Tutti i suoi Sciacalli Devo avvicinarmi senza Ok non ho capito niente Comunque Due strade Devo decidere Quale porta Eccone uno Fallito Riproviamo Dopo anno 2015 Uh maledetto Bastardo Ucciso Devo correre No Sì no Non devo correre Sì devo correre Oh 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 What's this What's that What's that Ragazzi è stata una bella serie di Assassin's Creed Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Comentate, iscrivetevi E noi ci vediamo nel prossimo video Ragazzi lasciate un commento Se per sbaglio ho detto Madgamer007 all'inizio Ditemelo